Quando scendiamo in campo, vogliamo dare tutto sul campo, dobbiamo vincere ogni partita. Sì, abbiamo una rabbia perché non abbiamo vinto questa partita. Come ho detto, abbiamo un'altra opportunità per vincere, per cancellare l'altra partita. Non voglio pensare troppo dell'ultima partita perché non era Milano, non era io. Ma ovviamente dobbiamo insegnare dall'altra partita perché è importante per la crescita della squadra. Sì, davanti ai nostri tifosi domani abbiamo un'opportunità per dimostrare che siamo una squadra forte. Era solo una partita che non eravamo al massimo. So che Milano è un grande club e sono orgoglio di essere qui. Siamo una squadra forte, sappiamo che possiamo alzare il livello, ognuno è collettivo. Non so come fa la società, ma quando il mister dà la squadra andiamo sul campo per dare tutto, per vincere la partita. Sì, questa è l'unica cosa che possiamo fare e dobbiamo continuare così. Spero che quest'anno possiamo vincere ancora e vediamo in futuro. Secondo me ogni partita è un'opportunità per dimostrare che posso giocare, che voglio giocare. Sì, ho parlato con Southgate, l'altro nazionale. Lui mi ha detto che sì, dobbiamo continuare, devi continuare. Sto guardando ogni partita, sì, questo lo so già. Sì, anche so che devo continuare ogni partita per dare tutto sul campo, giocare al massimo, il meglio possibile. E poi, sa che fa la decisione. Ma ovviamente voglio andare al massimo ogni partita per andare al mondiale, per giocare con l'Inghilterra. Ma so che se io gioco al massimo, vediamo che cosa ci sia successo.